Musica Io ho detto all'inizio, è un grande onore, ospitare il ministro Tavendan che è il protagonista di 4.0, quindi con loro in pulso e le rinforzioni alitiche che l'economia italiana e aziende italiane possono fare veramente il danno Noi dobbiamo superare questo gap e con gli altri paesi esteri, nonostante il mondo faccia male, sono più avanti di noi e penso che ci sia il modo migliore per ridurre questo gap. Grazie ancora. Una parola di benvenuto Ministro, grazie per essere passato per Vicenza, delle aziende importanti, innovative come questa, sono quelle aziende che aiutano le aziende peraltro a stare nell'internazionalizzazione, e questo è un focus molto importante, questa è una terra che ha nel DNA l'essere imprenditore, lo ha dimostrato negli anni, lo ha dimostrato nella sua capacità di export, ma ci sono le categorie. Ovviamente è una terra che è anche ferita da una ferita profonda, che è quella battaglia di banca popolare di Vicenza, che incide, che crea per certi aspetti anche povertà e difficoltà per i singoli e difficoltà per i nostri. No, è una terra che ha sempre saputo evocarsi domani, quindi bisogna, penso che sia utile nel governo, di dare degli input, per quelli già conosciuti, una volontà di stare insieme, di crescere insieme, non c'è internazionalizzazione. Bene, grazie, intanto grazie mille, grazie a tutti, a Alessandra, ma a tutti quanti, io ovviamente è il privilegio, scusate. Suoneria tradisce la marca, suoneria tradisce la marca, io lo detesto, sono poco 4.0, personalmente. Allora, io, no, intanto mi fa molto piacere essere ed è un onore per me esserci, io, insomma, oggi ho già visitato due cose molto diverse, ma altrettanto eccellente, una fabbrica di macchine molto avanzate per la produzione della pelle, in particolare l'ultimo pezzo della catena, della filiera, e invece è un'azienda che fa tutt'altro, che fa software, che fa, diciamo, non solo software, ma anche sistemi digitali, e che sono in fondo i due elementi che saranno insieme a un certo punto, anzi, non a un certo punto, molto rapidamente. Sono due cose che convergeranno e poi abbiamo un incontro dopo con un altro mondo, che è quello della produzione, diciamo, agricola, di prodotti agroindustriali, che è il terzo tassello. Questa cosa bisogna che sia tutta insieme, no? Una volta il digitale era un settore in qualche modo separato, su cui molti hanno giocato in maniera positiva, una scommessa, oggi il digitale e l'industria stanno insieme. Ed è un grande cambiamento, ma è un cambiamento che si adatta molto all'Italia, al contrario di quello che si potrebbe pensare, perché in realtà migliora l'efficienza attraverso la tecnologia e dunque l'economia di scala è meno rilevante, e anche l'azienda piccola può confettere e tenere le nicchie. Fino a parlare con la signora, c'è un'azienda di denim straordinaria, che vince in tutto il mondo, questa cosa è rafforzata, questa vocazione del presidio delle nicchie di alto di gamma, è rafforzata l'industria. Il problema qual è? E dove nasce il ragionamento che facciamo e che abbiamo fatto col governo? Nasce dal fatto che, se voi vedete la crisi, che in Italia è stata più devastante che in qualsiasi altro paese europeo, torta, va bene, la Grecia, ma insomma i grandi paesi, se voi prendete l'unico dato che noi siamo andati meglio di uno delle nostre operazioni, è l'aumento della disoccupazione e la Spagna è andata peggio di noi, l'unico. Per il resto noi siamo andati peggio di tutti. E perché siamo andati peggio di tutti? Io all'epoca ero appunto della prima azienda perché la parola industria, che la politica industriale è scomparsa dall'Italia per 25 anni, forse anche 30. Cioè l'idea in Italia è stata sempre che l'industria che in fondo ha tirato fuori il paese dalla povertà, noi siamo un paese, un grande paese, perché c'è l'industria? Perché c'è stata l'industria? La cultura ovviamente, ma la prosperità è venuta da questo, fosse data per scontato. C'era e se la cavava e funzionava e gli potevamo mettere qualunque carico possibile, e tanto che se ne è. Allora il senso del piano che abbiamo fatto è un senso duplice. Il primo è aver riportato l'industria al centro dell'agenda politica. Il tema dell'industria è il tema della crescente. E se non si affronta, non si affronta il problema della crescente. Il secondo elemento è che tra tutti i dati, quello più preoccupante per me è il crollo degli investimenti. Cioè tu puoi recuperare Pult di PIL, puoi recuperare Pult Procapita, puoi recuperare tutto. Ma se tu hai avuto un crollo degli investimenti privati e pubblici come quelli che abbiamo avuto in Italia, quella cosa la recuperi molto più tempo. Perché tra un investimento e la ricaduta dell'investimento ci vuole molto molto tempo. Questa è la ragione per cui il primo piano di politica industriale che si fa in Italia da molti anni a questa parte è concettato su questo, sugli investimenti, sulle aziende che investono. E lo fa con un sistema di incentivi che è fatto per le PMI. Perché non sono incentivi a bando ministeriale. Questo vuol dire che una piccola e media impresa non deve chiamare Roma, avere un'autorizzazione, avere un bollo, validare il suo progetto da un comitato di esperti che dovrebbero saperne più di lei su come funziona il suo settore di usare. Non devono fare niente di tutto questo. Devono prendere e usare incentivi fiscali per conto loro. Non li devono neanche avvertire, devono solamente spenderli. Spenderli tanto spero che spenderli in vero. Lo facciamo con due strumenti che sono superammortamento e iperammortamento, che hanno un ammortamento accelerato per i macchinari del 140%, per i macchinari legati all'industria 4.0 del 250%, che vuol dire che l'impatto fiscale, cioè fisco in meno, è il 36% del valore dell'investimento, quindi grosso. Quindi su un milione di euro si risparmio 360 mila euro. E questo per colmare quello che si diceva prima, cioè per recuperare un gap in pochissimo tempo, per farlo molto, molto rapidamente. Con un raddoppio di tutto quello che è in credito di imposta sulla ricerca e l'innovazione, in particolare sulla parte di innovazione interna. L'azienda che abbiamo visitato prima, non parliamo di questa, fa tantissima innovazione interna. Nel vecchio schema era una possibilità svantaggiata, invece noi vogliamo avvantaggiare chi fa innovazione interna, perché vuol dire anche posti di lavoro e gente che viene assunta. E per ricollegarmi al ragionamento con le banche, siccome oggi il problema, che qui è molto più attuto che altrove, ma comunque è un problema molto persistente, quello che abbiamo fatto è cambiare profondamente il fondo di garanzia delle imprese, secondo un criterio che molto probabilmente privilegia i rating medio-bassi, cioè quelli che hanno oggi difficoltà a provvigionarsi il credito, mentre prima privilegiava tutti, e quindi le banche ovviamente lo usavano soprattutto per finanziare aziende che avevano un rating alto, quindi di fatto stavamo finanziando le banche, e lo fa di più e garantisce di più chi fa investimenti, o chi chiede un credito a medio-lungo termine, cioè ha una pianificazione dell'azienda, sarà dove vuole essere per 3, 4, 5 anni. Come vedete tutto è fatto per cercare di convergere su questa frontiera, più investimenti, è lì che giochiamo la partita della crescita. Su questo abbiamo messo un miliardo di euro, un miliardo di euro è la cifra che noi perderemo il prossimo anno perché le garanzie verranno esclusse, cioè quello che noi prevediamo di perdere, il che vuol dire che con un miliardo di euro messo a perdita, noi garantiamo circa tra i 22 e i 25 miliardi di euro il credito al PIB, soltanto i soldi. Se io, adesso sto completando la ripulizia di tutti gli strumenti del Ministero, quello che voglio fare è concentrarci più risorse possibili, che questo è un tema gigantesco, non lo è solo in Veneto, è un lungo più larghissimo. Dunque, è un'occasione, ed è anche un rapporto di fiducia con le imprese che è forte, perché si dice alle imprese, io non vengo a dirti come è sempre stato fatto in Italia, i governi hanno sempre fatto una politica industriale dirigista, in cui dicevano alle imprese io ho privilegio che investe nell'auto elettrica, o io ho privilegio che investe nella chimica, ve lo ricordate dell'idea dell'eccellenza della chimica, o io ho privilegio che investe nel digitale, quindi noi stiamo dicendo io ho privilegio chi investe, non vi dico in che settore, e non vi dico con quale tecnologia, la tecnologia va bene, quella che voi decidete che va bene per la vostra azienda, e poi sarà il mercato a decidere se avete scelto o quale. E quindi è un piano di politica industriale, non dirigista, e che confida profondamente la capacità dell'imprenditore italiano di scegliere quello che ritiene giusto, e poi di verificarlo, potrà fallire, potrà andare bene, potrà non andare bene. Su questo noi mettiamo tanti soldi, tanti soldi, perché sono 13 miliardi di erotti di incentivi fiscali per gli investimenti fatti nel 2017, sono 20 miliardi nell'arco della legge di bilancio. Abbiamo anche esteso il periodo di esecuzione dell'investimento, cioè l'investimento per super e per ammortamento si può fare dall'inizio del 2017, ma si può completare entro a oggi, entro metà del 2018, io spero che col passaggio in Senato di riuscire a portarlo a settembre, se non a dicembre. Quindi stiamo parlando di una spinta molto grossa. Adesso bisognerà vedere, sta dall'altro lato l'idea di mobilitario. Tra l'altro, questo mi ha consentito di fare una cosa, di dire, cancello tutti gli incentivi al bando che non funzionano. E ho fatto convergere le risorse, mi ho cancellato su 25 strumenti che aveva il Mise, il Ministero del Sviluppo Economico, ne ho ottenuti 4. E questo mi ha consentito di poter avere tantissime risorse sugli strumenti che tengo, che quali sono? Contratti di programma, contratti di ricerca, che sono fatti con aziende medio-grandi che vogliono fare investimenti, e soprattutto per gli investitori internazionali, e tanti soldi sulla legge 181 per le armi inglese. Penso che in questo caso non è nella provincia, però a Porto Marghera, dove andrò, per la possibilità di avere lì tante risorse. Ecco, questa è un po' la strategia di politica industriale. L'ultimo punto che mi fa piacere di miarcare è questo, che questo piano non l'ho fatto io. L'abbiamo fatto con 7 Ministeri, i tre Politecnici e la Sant'Anna di Fise, i centri di ricerca, i sindacati, le associazioni imprenditoriali, le associazioni degli artigiani, cioè è stata una roba che abbiamo fatto tutti insieme. Adesso ci siamo dati degli obiettivi numerici, cioè al prossimo anno noi vogliamo vedere un aumento degli investimenti di 10 miliardi, un aumento della ricerca e innovazione, nell'arco del periodo di 11,7 miliardi, ci ritroveremo con questa cabina di regia, tavolo di coordinamento, termini o rendi, ma in questo caso funzionano, a un anno data, vediamo se i numeri ci sono o non ci sono, i numeri sono pubblici, non ce ne hanno sul sito di Ministero, quindi tutti possono verificare. La mia idea è che quando si uscita un obiettivo, l'obiettivo è quantitativo, non serve a niente, perché non lo puoi verificare, e quindi questo è quantitativo. E vediamo insieme, però almeno rimiamo tutti verso la stessa direzione, insomma andiamo tutti verso la stessa strategia e vediamo. Poi ci saranno cose che funzionano, cose che andranno messe a posto, c'è un discorso sui Competence Center, come voi sapete, è un discorso complesso, difficile, perché si tratta di far nascere il nostro Fraunhofer, cioè l'ente per l'innovazione, però farlo nascere dal basso, utilizzando l'esperienza di eccellenza dell'università, implica un grande lavoro di sistema, in cui non si facciano ragionamenti locali, io contro questo, questo contro quell'altro, ma di presidio delle eccellenze tecnologiche nell'innovazione. Quando in Italia si dice di mettere al sistema e superare il localismo, è già una cosa che quando la dici, sai che sarà la pezzo più difficile, mentre la parte di incerti fiscali, da gennaio, che dovete solo usare, da questa parte qui ti chiederanno un grandissimo lavoro. Questo è un po' il disegno. E se c'è un posto da cui misureremo, se abbiamo fatto una cosa buona, se non abbiamo fatto una cosa buona, sarà il Veneto, perché il Veneto ha tutte queste caratteristiche. Prego, io, qualunque domanda... Signor Ministro, grazie, io l'ho ascoltata anche quando ho riuscito in un'industria Roma, e apprezzo molto la sua tempestabilità, la centralità sull'industria come valore del sistema paese, e l'automatismo di quello che ha proposto. Ho una domanda secca, una grande preoccupazione. Per noi il Veneto è molto importante quello che lei sta facendo e quello che lei ha detto che stiamo veramente a suo fianco su questo. Cosa succede? La legge di stabilità approvata a Camera ha il passaggio al Senato, adesso siccome siamo un paese dei fenomeni in cui quando si riesce a costruire qualcosa poi bisogna sempre distruggerlo, vorrei capire se è ottimista e riusciamo veramente ad arrivare... Io penso che da qui al passaggio a legge al Senato ci abbiamo qualche piccolo appuntamento nel weekend, ma successivamente all'appuntamento nel weekend siamo in un problema dura ottimisti, nessuno si è proposto di toccare quello che abbiamo visto che è stato recepito non solo per intero alla Camera, ma è stata aumentata la dotazione rispetto al progetto iniziale del fondo di garanzia già come proposta la presidenza del Consiglio. Quindi io il passaggio al Senato lo vedo come una possibilità di rafforzamento in particolare sui tempi di esecuzione costa un sacco di soldi su allargare i tempi di esecuzione del super e del libero ammortamento però è quello che io vorrei portare in casa. Se c'è una costanza di governo io non vedo problemi e spero che comunque non ci siano problemi perché se no sarebbe veramente un gran lavoro che arriva già in ritardo noi eravamo un grandissimo ritardo su questo e sarebbe una delusione enorme. Cisle, segretario. Solo due piccole domande la prima noi chiaramente quando parliamo di sviluppo economico parliamo anche di distribuzione perché è certo che uno non esiste senza l'altro soprattutto abbiamo due temi che sono importanti a Vicenza il primo riguarda la necessità di costruire secondo me è anche un problema che riguarda lo sviluppo economico non solo Poletti il suo collega di costruire la possibilità di incentivare gli accordi di partecipazione perché il primo passo della rete delle relazioni che deve essere prevista naturalmente per le piccole e medie aziende perché lì è ancora più necessario è anche quella di creare una rete di relazione tra capitale e lavoro come si diceva una volta noi vogliamo rilanciare questo tema a Vicenza e su questo abbiamo fatto un accordo che abbiamo distribuito i suoi colleghi e che uno per adesso e che vorremmo forse maggiormente incentivato evidentemente che è una necessità del cambiamento verso 4.0 società 4.0 economia 4.0 il secondo riguarda le partecipate le utilities una domanda che faccio noi crediamo che possano essere se c'è una governance locale le utilities ben gestite comunque come aziende che devono stare sul mercato e qua non stiamo pensando ad altro a Vicenza da questo punto di vista c'è un'ottima come si può dire c'è una buona pratica le utilities devono avere anche la possibilità di essere aziende governance pubblica perché devono avere un compito nella nostra visione e il compito anche di distribuire aziende come questa che hanno altre tecnologie governance know-how economia e non soltanto però di produrre reddito al capitale che invece un'azienda privata ha per necessità no? allora vorremmo ci fosse la possibilità di incentivare maggiormente una governance pubblica sull'utilizzo quando è strumento naturalmente non di baraconi ma quando è strumento come a Vicenza lo è di buone pratiche di buone aziende perché possono essere il braccio la dico così il braccio economico anche del pubblico nell'economia della politica nell'economia sto parlando naturalmente dei servizi pubblici che riguardano energia che riguardano anche settori ad alta come si può dire anche ad alta competenza ad alta pieno ti risponderei così io sono un forte sostenitore dell'idea che le aziende che bisogna lasciare spazio al mercato e alle aziende private tuttavia ci sono settori che sono regolati che sono per definizione regolati nei settori regolati io secondo me sono diciamo settori che hanno una particolarità cioè che non sono pienamente operano in pieno regime di mercato io non è che abbia un'opposizione ideologica l'idea che una cosa la faccia il pubblico la faccia il privato abbiamo però una storia dietro quando lei dice il braccio armato dalla politica a me viene tutta la pelle d'oca da noi ma allora per me il tema è che siano ben gestite e che producano utili da reinvestire e che producano utili diciamo in una percentuale che è compatibile col fatto che sei un settore regolato perché se sei un settore regolato non hai un rischio di imprese e fai il 20% di utile netto c'è qualcosa che non sta funzionando e questo vale sia a livello locale che a livello nazionale cioè i settori regolati sono regolati e devono avere un ritorno sul capitale che è un ritorno minimo in relazione a quello che loro hanno oggettivamente come rischio di impresa perché meno il rischio di impresa e meno deve essere il rendimento quindi non ho una preclusione ideologica non conosco la situazione qui se è una situazione positiva o non positiva e questo è il primo tema il secondo tema e anzi quello che è posto per primo cioè la questione di come sta insieme il lavoro al capitale è una questione essenziale con Poletti noi prepareremo una seconda release del piano su Industria 4.0 che sarà un piano sul lavoro su cui stiamo lavorando con voi la prima cosa che stiamo facendo è vedere e fare quello che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la parte industriale cioè vedere cosa si sta facendo nel mondo di un tema che è un tema essenziale perché la digitalizzazione arriva l'innovazione tecnologica arriva noi la possiamo solo gestire perché se non la facciamo non esisterà più l'industria italiana dall'altro lato però questa va governata dal punto di vista del riflesso sul lavoro perché sennò ha delle ricadute negative sul lavoro allora per esempio il nuovo contratto che è stato fatto in Metal Meccanico è un contratto intelligente perché comincia a inserire degli elementi come la formazione che sono un pezzo essenziale che non diventa più un nice to have cioè una cosa che se ce l'hai è meglio è una cosa fondamentale perché il processo dovrà essere continuo di formazione perché aggiornandosi la tecnologia si dovrà aggiornare la formazione non è solo questo c'è anche il tema del welfare aziendale che è una cosa diversa dell'industria 4.0 però che ci sta dentro io dunque penso che questo è una cosa su cui si sono fatti i passi avanti noi intanto la registabilità abbiamo messo un'ulteriore defiscalizzazione come voi sapete su premi di produttività chiamiamo così e welfare aziendale quindi aiuta e spinge in questo senso poi il lavoro è molto articolato e la partita è la più difficile di tutte mi raccontavano che due mesi e mezzo fa al Fondo Monetario Internazionale c'è stata la riunione che fanno annualmente al Fondo Monetario Internazionale il tema centrale era questo cioè il rapporto tra innovazione tecnologica e lavoro perché questo è il tema centrale dottor Manilverni associazione artigianale buongiorno tanto di fuoco e saluti al nostro presidente che è occupato di una presidenza purtroppo istituzionale volevo così emergere un punto importante per quanto riguarda noi di confattigianato siamo circa 20 mila di territori in territorio centrale usciamo da questo periodo di cambiamento perché la crisi è già passata è un cambiamento legato poi a quello che il sindaco anticipava nella crisi delle banche che ci ha colpito pesante noi usciamo diciamo con le ossa abbastanza rotte da questo momento quindi ecco la mia è un po' una sottolineatura di quanto noi che siamo un tessuto molto forte siamo in momento di difficoltà soprattutto per le nostre imprese quelle che non lavorano con l'export cioè chi lavora con il mercato interno oggettivamente è in momento di molta molta difficoltà quindi ecco il nostro è un appello a prenderci in carico e un aiuto soprattutto in questo momento di passaggio tra Camera e Senato di non perdere tutto quello che è stato inserito a nostro vantaggio anzi a nostro aiuto sì che ho detto che bisogna un aiuto delle cose anche ma sentite io diciamo affinché c'è il governo posso promettervi che piuttosto mi incateno al Senato però dopo cioè non lo so incateniamo sì ecco incateniamoci insieme perché io questo posso dirvi ma non vedo questo rischio perché francamente è molto diffusa la consapevolezza che bisogna andare su un piano strategico di lungo periodo forte che sia buono per le piccole imprese che rilanci la domanda interna ma prima di tutto la domanda di investimenti interna perché prima l'azienda dove stavo prima intanto vende più macchinari in Italia col doppio effetto che hai la domanda interna che sale ma allo stesso tempo è una domanda di investimenti quindi riqualifichi la produzione italiana allora noi oggi abbiamo risorse scarse ok perché ce le abbiamo scarse vanno applicate in modo intelligente e per la prima volta va fatto un ragionamento che è sulla competitività perché se tu se fai un altro tipo di provvedimenti che danno anche una fiammata di consumi ma poi si spegne non costruisci una crescita reale quella si costruisce purtroppo lo dico purtroppo ma lavorando sui fattori di lungo periodo di competitività questo bisogna spiegarlo molto spesso non è facile per i cittadini capirlo perché hanno una difficoltà che è immediata però io siccome sono molto confidente nessuno riarticola questo pensiero magari articolando un po' di più o meno slogan un po' di articolazione la gente lo capisce e lo condivide altre due domande Confcommercio Boschiero sarò telegrafico anche noi ovviamente anche il commercio turismo e servizi stanno attraversando un momento di profondo mutamento e credo che il titolo di industria 4.0 qualche volta sia anche un po' forbiante perché ovviamente interessa la generalità di un paese anche ovviamente si dovrebbe chiamare un'azienda 4.0 ma a parte questo il problema è investire e avere anche tra virgolette di incentivi per gestire la cultura dell'impresa che va modificata va cambiata non è una cosa semplice perché cambiare è sempre molto difficile quindi dei percorsi formativi credo sia una grande opportunità e anche questi dovrebbero rientrare fra l'altro diciamo così in quelli che possono essere agevolazioni che il ministero ha messo a disposizione dei paesi la questione è che la formazione è molto giusta e si incrocia a quello che dicevamo prima infatti lo facciamo nel secondo pezzo stando molto attenti perché in Italia sulla questione della formazione sono state buttate tantissime risorse sono stati usati in alcuni casi come ammortizzatori sociali in maniera massiccia cosa che non sono ne ha fatto un lavoro qualitativamente significativo è vero si chiama industria 4.0 perché impatta sull'industria e perché io mi sono staccato di cambiare il nome continuamente ieri un imprenditore diceva no bisogna chiamarla già industria 5.0 e alla fine ho detto ragazzi facciamo che stiamo tutti sullo stesso nome perché se no però è l'azienda perché le aziende di distribuzione sono immensamente impattate da questo cambiamento le aziende di servizi non ne parliamo proprio per cui insomma chiamiamola industria e ci fa piacere che il termine industria ritorni centrale ma poi è l'azienda che cambia Cuisine della Cisla no Will Will è sbagliato la faccia disgustata no no ma è sempre così non si passa no non è una cosa ma è come se gli artigiani di cibo industria ma non è una cosa ma è una cosa ma è una cosa che di solito rappresentano il nostro essere e anche il nostro modo di pensare e di agire nell'ottica di fare bene il nostro lavoro e farlo al meglio i colleghi voglio ritornare sull'accordo che abbiamo fatto innovativo anche a vicino